Buongiorno cari telespettatori e bentornati al nostro consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Oggi, giovedì 16 settembre, ripercorriamo insieme le principali notizie della giornata, leggendo le aperture appunto dei quotidiani nazionali. Il focus odierno è il Green Pass, si parla dell'obbligo sul lavoro, oggi il decreto multe, previste multe per chi non ha il certificato verde. E allora apriamo ufficialmente la nostra rassegna stampa con, come di consueto, il Corriere della Sera. Lavoro solo con il Green Pass. Oggi il decreto multe a chi non ha il certificato verde, lite sui tamponi, gratis. Salvini apre al nucleare una centrale in Lombardia. E' polemica, misure per alleggerire la bolletta elettrica. Leggiamo nel richiamo di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini. Sanzioni per chi andrà a lavoro senza il Green Pass. Oggi ci sarà il decreto scoppia, una lite sui tamponi gratis. Polemica anche per l'apertura di Salvini al nucleare. E poi c'è il sondaggio di Milano, Sala a un passo dal BIS, testa a testa, Lega e Fratelli d'Italia. Leggiamo nel richiamo di Nando Pagnoncelli. A tre settimane dal voto per il Comune di Milano i sondaggi vanno in testa Beppe Sala a un passo dalla riconferma. Il sindaco uscente arriverebbe al 49,5% per superare al ballottaggio il 60% delle preferenze. Luca Bernardo per il centrodestra fermo al 34,9%. Tra i partiti, primo il Partito Democratico e testa a testa, Lega, Fratelli d'Italia. Leggiamo in merito alla politica estera l'editoriale di Angelo Panebianco. L'Italia dei partiti deboli. Adesso chi fermerà i maremoti? Leggiamo nel richiamo. Il declino americano preannuncia l'arrivo di tempeste. Anche in Occidente, anche in Europa. E perché i più sono convinti che le democrazie europee non siano in grado di provvedere autonomamente alla propria sicurezza che si invoca la difesa comune. o comunque una qualche forma di più stretta integrazione su scala continentale. Ma le democrazie europee non sono tutte uguali. Nessuna può fare da sé, certamente. Ma non tutte sono ugualmente disarmate di fronte a rischi e alle minacce internazionali. Per un insieme di ragioni. Contano le risorse che ciascuna democrazia può investire in sicurezza. Contano le diverse tradizioni, contano i differenti assetti istituzionali. Forse la risorsa più importante è data dal grado di coesione nazionale di fronte ai pericoli e alle sfide internazionali. Da questo punto di vista, se prendiamo come termini di confronto le altre grandi democrazie europee, dalla Francia alla Gran Bretagna, dalla Germania alla Spagna, si può constatare che l'Italia è nelle condizioni peggiori. Il suo sistema politico non favorisce, anzi esalta, la mancanza di coesione. Non ci faccia ingannare dall'attuale tregua. Il governo Draghi non durerà in eterno. Prima o poi si tornerà alla normale dialettica politica e allora tutte le magagne dovute al combinato disposto di un insieme frammentato di partiti fragili con un debole radicamento sociale e di un assetto costituzionale da democrazia assemblare con governi istituzionalmente deboli, torneranno a manifestarsi. E si parla, centropagina, della mattanza dei delfini, l'orrore e le proteste alle isole Faro in Danimarca, cacciati oltre 1.400 esemplari, gli animalisti, follia. Leggiamo nel richiamo di Paolo Virtuani, orrore alle isole Faro in Danimarca. Oltre 1.400 delfini sono stati massacrati. La tradizionale festa che da secoli si tiene nel paese scatena polemiche e proteste. Insorgono gli animalisti, compiuta una follia. E parliamo di cronaca, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera. Si parla quindi della giovane madre uccisa in casa. L'assassino poi si suicida. Aveva 21 anni. La vittima era Alessandra Zornin. Un solo colpo al volto, sparato da vicino. Leggiamo nel richiamo epilogo dell'ennesimo femminicidio. Il secondo in meno di una settimana nel Vicentino. La vittima è Alessandra Zornin, 21 anni, sposata. Mamma di una bimba di due. A trovare il cadavere in casa, il marito, avvisato dai vicini che hanno sentito lo sparo e visto un uomo scappare. Il suo assassino, una guardia giurata del padovano, amico della giovane vittima, si è tolto la vita. E ancora, andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani. Passiamo quindi alla prima pagina di Repubblica. La Repubblica titola la sua principale notizia sull'emozione a Strasburgo, la Unione Europea di Bebevio. Dobbiamo avere il tuo coraggio, annuncia Von der Leyen, la difesa comune. Mattarella serve unità e sicurezza. Standing ovation del Parlamento Europeo per Bebevio, invitata dalla Presidente Ursula von der Leyen, come un esempio ispiratore, ha detto, perché è riuscita a raggiungere tutti questi risultati applicando il suo credo. Se sembra possibile, allora può essere fatto. Poi annuncia la difesa comune. Il capo dello Stato, Mattarella, afferma, facciamo sentire la voce europea. E ancora, centro pagina, Green Pass e battaglia sui tamponi gratuiti. Fondo straordinario di 3 miliardi per frenare il caro bollette. Oggi il decreto del Governo si rende obbligatorio il certificato per statali e lavoratori delle aziende private. I sindacati vogliono che il costo dei test non ricada sui dipendenti, ma Draghi afferma, richiesta inopportuna. Leggiamo quindi nel richiamo. Sono circa 10 milioni gli italiani che, pur candidabili alla vaccinazione, non hanno ancora effettuato il vaccino contro il Covid-19. Eppure fra loro solo una piccola minoranza sono Novax. Lo dicono i dati sulle vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia, cui obiettano pochissimi genitori. Perché dunque una tale esitazione? E il commento di Alberto Mantovani, vaccini, il rischio del non fare. E ancora, il provvedimento sull'estensione a tutti i lavoratori dell'obbligo del Green Pass da metà ottobre sarà oggi in Consiglio dei Ministri. C'è tensione sui tamponi per chi non è vaccinato. Non si può pagare per lavorare, dicono i sindacati, ma Draghi afferma, non possono essere gratuiti. E ancora, parliamo adesso, andiamo a leggere lo spazio dedicato alla cultura in pancia della prima pagina della Repubblica. Si parla delle insidie sulla strada della sinistra di Ezio Mauro. Nel gran parlare che si è fatto sul centenario del congresso di Livorno, del PSI, con la scissione da cui nacque il partito comunista, è passato sotto silenzio un elemento minore che può sembrare puramente formale o estetico, ma è invece rivelatore dello spirito primogenio della sinistra italiana nel fragore del Big Bang delle origini. In una settimana di discussione, la parola che non viene mai pronunciata e di cui non c'è traccia nei verbali, è libertà. E ancora, Segreti e bugie, la doppia vita di Schiever, di Julian Barners, una versione. John Schiever, nacque a Quincy, nel Massachusetts, nel 1912. Nel 1935, all'età dei 22 anni, pubblicò il suo primo racconto sul New Yorker, inaugurando una collaborazione con la rivista, che durò tutta la vita. La sua reputazione letteraria crebbe lentamente, finché nel 1958 vinse il National Book Award per il suo primo romanzo, Cronache della famiglia Walshott. Nel 1964, il Time, gli dedicò una copertina. E ancora, passiamo alla pagina della stampa, che titola la sua principale notizia, ancora sul Green Pass, a lavoro con l'obbligo di Green Pass, che rifiuta, rischia la sospensione. Il provvedimento oggi, in Consiglio dei Ministri, contagia a scuola, torna all'ombra della DAD, già chiuso e molte classi. I sindacati ottengono il divieto di licenziamento, ma dal quinto giorno l'assenza sarà considerata ingiustificata. E leggiamo nel richiamo di Lario Lombardo e Paolo Ruscio, Avanti Call, Green Pass, l'obbligo di presentarlo per entrare al lavoro sarà esteso a tutti i dipendenti pubblici e anche a quelli del privato. Chi si presenta senza non entra e potrebbe essere sospeso senza stipendio fin dal primo giorno. Dal quinto l'assenza è considerata ingiustificata. E si parla anche di pandemia, fare il vaccino serve due volte, lo scrive Eugenia Toniotti, dopo un anno atipico ritorna il timore di un twindemic. E ancora l'energia sul caro bollette sconti, IVA e bonus, Paolo Baroni scrive, slitta alla riforma del fisco, arriva il piano per frenare l'aumento delle tariffe. E a centro pagina si parla ancora dell'incontro di Bebevio, Mattarella e von der Leyen, una svolta per l'Europa, lo vediamo nella foto, notizia a centro pagina, verso un sistema di difesa comune. L'unione dei valori condivise, scrive Paola Severino, ce la possiamo fare. Questo è il titolo che si potrebbe dare al discorso sullo stato dell'unione di von der Leyen. E ancora tutti in piedi, parla, bebe, bio. Caterina Soffici scrive, l'hanno accolta con una standing ovation, tutti ad applaudire la sua forza, lei è il simbolo che volendo si può. E ancora andiamo avanti, leggiamo l'intervista, la fondo del Papa, aborto e omicidio, no alle nozze gay. Ancora il commento di Francesco, ma Francesco stavolta sbaglia, scrive Michela Marzano, è giusto assumere un sicario per uccidere una vita umana? E Papa Francesco a domandarlo. A chi, come lui stesso dice, non capisce che l'aborto è un omicidio e che chi fa un aborto è un assassino. Papa Francesco questa volta non usa mezze parole e a me, mentre leggo l'intervista rilasciata durante il volo che lo riportava a Roma a conclusione del viaggio a Budapest in Slovacchia, si stringe il cuore. Forse perché anch'io faccio parte di coloro che non capiscono che chi fa un aborto è un assassino. Ancora, leggiamo a questo punto la prima pagina di Avvenire, il giornale della conferenza episcopale italiana. Sguardo cristiano su relazioni e vita, il Papa, l'aborto, un omicidio, sì, alle unioni per tutti, ma il matrimonio è uomo, donna. Leggiamo, nel richiamo di Mimmo Muolo, di matrimonio ce n'è uno solo, quello tra uomo e donna, un sacramento che la Chiesa non può cambiare. Così il Papa ha risposto a una delle domande nel volo di ritorno dal viaggio di Budapest in Slovacchia, una conferenza stampa in cui ha toccato i punti sensibili dell'attualità. L'antisemitismo, ha detto, sta risorgendo. Poi ha parlato di aborto, un omicidio di Europa e di Ungheria. Con il premier Orban non si è parlato di immigrazione. E a centropagina la fotonotizia di San Giuseppe Iato, di se state le strade per la prigione del piccolo Di Matteo, inaccessibile la cella Sacrario. Eccola qua, l'immagine centrale. Antonio Maria Mira scrive, rifiuti e fango è una strada da fuoristrada. Una nuova offesa al piccolo Giuseppe Di Matteo. Siamo incontrate a Giambascio, nelle campagne di San Giuseppe Iato, comune sciolto per mafia lo scorso 14 luglio. Qui il bambino venne tenuto prigioniero per circa 180 giorni. E ancora, leggiamo l'editoriale di Danilo Paolini. Pessimi giochi, puro buonsenso. Si parla dell'elettorato marginale e dell'interesse generale. E ancora, si parla di uno spazio dedicato alla scuola, già bocciati i piani individuali per i disabili. Una sentenza del TAR del Lazio evita il taglio delle ore di lezione e l'esonero degli studenti da alcune materie, la soddisfazione delle associazioni. Intanto, rispetto a quasi 90.000 insegnanti di sostegno precari, gli stabilizzati sono solo 11.000. E ancora, il Covid, il governo avanti a tutto passo. Oggi l'estensione ai lavoratori privati, ok, dei sindacati, ma niente licenziamenti. Un decreto per bloccare gli aumenti delle bollette. E a Roma la solidarietà nelle mense riprende in presenza. E adesso passiamo alla successiva pagina. Il sole 24 ore, il giornale di Confindustria, che titola la sua notizia principale con lo smart working compatto individuale. Leggiamo nel richiamo di Gianni Trovati. Lo smart working nella pubblica amministrazione tornerà presto a essere regolato dall'accordo individuale previsto prima della crisi. E in arrivo un DPCM che rende ordinaria la presenza in ufficio dei dipendenti pubblici alla luce dell'obbligo di Green Pass sul lavoro nel decreto atteso oggi. I contenuti dell'intesa individuale saranno dettati nel contratto. L'accordo potrà anche essere a tempo indeterminato, ma con la possibilità di revoca unilaterale senza preavviso in caso di giustificato motivo. E quindi appunto si parla di lavoro agile, passerà dalla firma di un accordo con i singoli dipendenti e appunto l'arrivo del DPCM che renderà ordinare appunto la presenza negli uffici. E ancora, per la meccanica italiana la ripresa corre più veloce che nel resto d'Europa. E il report di Federmeccanica, produzione al 102% rispetto a gennaio 2020, il 97% in Unione Europea, cresce anche l'occupazione. E allora, andiamo a leggere il richiamo di Giorgio Pogliotti. La meccanica accelera, la produzione recupera i volumi dell'era pre-Covid. Secondo il report di Federmeccanica, tra aprile e giugno l'attività è cresciuta del 2,1% su base congiunturale dopo il più 1,3% di gennaio-marzo. Nel primo semestre l'aumento è del 29,9% rispetto al 2020, poco al 18 dello stesso periodo del 2019, meno 0,8%. L'incremento interessa tutti i comparti con dinamiche differenti, diminuisce il ricorso alla cassa integrazione e nelle imprese con oltre 500 dipendenti. I livelli occupazionali aumentano dell'1,2% rispetto a dicembre 2020. Su questi risultati è inciso la ripresa della domanda interna e del commercio mondiale. In sei mesi export di più, 31% in Europa, l'Italia, va meglio degli altri paesi. Fatto certo il volume di produzione di gennaio 2020, a livello di Unione Europea, 27 a giugno, si è raggiunto 97,4%. In Italia 102,1%. E ancora si parla dello spin-off, Ivecola controllata di CNH, che produce veicoli commerciali, verrà quotata a inizio 2022 a Piazza Affari. E questa è la fotonotizia, la Galassia Exor, CNH stringe i tempi sullo spin-off Iveco, quotazione a Milano per gennaio 2020. Si parla di lotta all'evasione, meno vincoli di privacy, anche della delega fiscale, meno vincoli quindi della privacy per l'utilizzo delle nuove tecnologie, e dello scambio dati ai fini anti-evasione, si legge nel richiamo di Immobili e Parente. La delega fiscale punta a un cambio di passo su questo fronte, cercando di contemperare le esigenze di tutela dei dati sensibili, ma anche del gettito e facendo leva sulle regole europee alla base del GDPR. La delega punta a sbloccare l'enorme arsenale di dati di cui dispone l'amministrazione finanziaria, senza prevedere un passaggio da un via libera preventivo e vincolante del garante della privacy. E adesso passiamo alla pagina successiva, l'apertura del messaggero, che titola la sua principale notizia sul Green Pass. Ancora una volta, Green Pass obbligatorio anche in azienda, certificato per impiego pubblico e privato. Sarà sospeso dal lavoro chi ne è sprovvisto. I dipendenti della pubblica amministrazione senza QR code non potranno scegliere lo smart working e poi il nodo tamponi. Leggiamo, ne richiamo, Green Pass per tutti, anche nelle aziende, certificato in vigore da metà ottobre, sia per il pubblico che per il privato. Oggi il decreto in Consiglio dei Ministri. Il Premier vede i sindacati e le regioni, poi il via libera. Sospeso, chi non ce l'ha e niente stipendio. Nel pubblico i Novaxio non potranno scegliere di lavorare a casa nelle aziende private. Sarà il datore di lavoro a decidere a chi consentirlo. Intanto il Lazio è partito con le terze dosi per i fragili, over 80 e RSA contro entro l'anno. E si parla di zone franche, Camera e Senato, niente certificazioni per il personale. Diodato Pirone scrive Green Pass, c'è una free zone alla Camera e al Senato. I dipendenti per ora sono esclusi. E ancora Vaticano diviso sulle affermazioni del Papa. Ci sono cardinali Novaxio, uno ha il Covid. Franca Giansoldati scrive, il Papa negazionisti. Anche tra i cardinali e uno ora ha il Covid. Linea fuertes per il risanamento, la guerra contro gli sprechi in Rai. Non si farà la Saxarubra del Nord. Scrive Mario Aiello, Saxarubra del Nord, addio. La nuova Rai taglia gli sprechi nel piano di risparmi di Fuertes e CDA. Il trasloco milanese non è compatibile tra Cinecittà e l'arrivo delle piattaforme globali. Il nuovo corso della TV pubblica punta. Su Roma, fotonotizia su Von der Leyen e Bebe Vio. La Von der Leyen afferma difesa comune per l'UE, per l'Unione Europea ed esalta la Vio. Bebe esempio per i giovani d'Europa. Ursula Von der Leyen e Bebe Vio. Ieri a Strasburgo. Nella foto, notizia centrale. E ancora, andiamo avanti. L'autunno caldo dei prezzi in salita, freno alla ripresa, la crisi delle materie prime spinge. L'inflazione, allarme della Confcommercio per consumi. E' PIL. Luca Cifoni scrive, non solo le bollette del gas e della luce. A preoccupare sono anche i prezzi. Si preannuncia un autunno caldo, una mina sui consumi. Rischia la crescita 2022. L'allarme di Confcommercio con queste tensioni. L'inflazione, anche oltre il 3% in autunno. E andiamo avanti con la prima pagina del mattino, che titola la sua notizia sugli statali. Il Green Pass anche a casa. Via libera l'obbligo per tutti. Nella pubblica amministrazione, i Novax non potranno restare in smart working. Per i privati servirà un accordo aziendale. Oggi il decreto restano fuori Camera e Senato. E poi la richiesta al Governo in Campania. Controllo vaccini. Ora fermate le forniture. Un milione di dosi. In giacenza nei frigoriferi e crollo delle richieste in Campania. Come chiesto al Commissario nazionale per l'emergenza Covid, la fornitura di vaccino moderna è sospesa. Continueranno le consegne di vaccino Pfizer, ma non è escluso che possano essere ridotte nelle prossime settimane in attesa di evoluzioni in termini di utilizzo, che allo Stato non è possibile prevedere. E ancora, al Policlinico di Napoli. Covid. E poi si parla dell'inchiesta ai 74 comuni del Sud, dove internet è solo un miraggio di Gigi Fiore. Il miraggio di internet per 74 comuni del Sud. 10 sono in Campania, 19 in Molise. Lavoro in remoto e lezioni a distanza sono praticamente impossibili, così come fare lo speed. E per il web ci si arrangia con il telefonino. E si parla di cronaca nella fotonotizia. Centropagina. Pironti, l'editore che tirava i cazzotti. Morto quindi a 84 anni, l'ex pugile tra i suoi scoop. I libri sul Vaticano. Ed infine l'ultima pagina. Nella nostra rassegna stampa, il quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, diretta da Roberto Napolitano, che titola la sua principale notizia sul patto per l'Italia, che si chiama Sud, all'Assemblea di Confindustria, la visione di Bonomi e il pragmatismo di Conte. E ancora leggiamo gli ultimi titoli della prima pagina. La priorità. Prima il mezzogiorno di Patrizio Bianchi, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha aperto oggi l'Assemblea annuale con un richiamo a un patto per l'Italia che rimetta tutte le espressioni della società civile attorno al tavolo di un paese che deve rilanciare la voglia di fare impresa. Il bisogno di assumersi responsabilità, la necessità di convogliare tutte le migliori competenze e ancora infrastrutture, De Micheli, Frenel Sud, 35 decreti attuativi, ancora fermi. Ed infine l'ultimo titolo, Zaia promette di regalare a Cortina una pista per il Bob da 50 milioni. Si parla appunto nello spazio di Giuseppe Pietrobelli, Sprofondo Nord. E allora siamo al termine della nostra rassegna stampa odierna. Grazie per aver prestato la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete.